Emozionante giornata da ricordare per la spedizione azzurra a Pechino 2022. Due supermedaglie sono arrivate dallo short track a compensare le forti delusioni della mattina da sci alpino e di fondo. Una immensa Arianna Fontana conquista la photo finish un superargento nella prova di 1500 metri donne. Battuta per soli 3 millesimi, 3 la Spitzra Shuten, mentre loro va alla sudcoreana Choi. Arianna ha eguagliato il record di 11 medaglie contro le 10 della fondista Stefania Belmondo. Poco prima è raggiunto lo strepitoso bronzo della staveta azzurri uomini con Confortola, Sigel, Cassinelli e Dotti. Risultanza e gioia dopo photo finish con la Russia ai piedi del podio, Argento alla Sud Corea e loro al Canada. Con il risultato di oggi saliamo a quota 15 medaglie, ampiamente superata Pyeongchang 2018, Minno Siena, World News 24. Grazie a tutti.